Ebbene sì, esiste una mappa del mondo che ha alla sua base le taglie di reggiseno più diffuse nei paesi a cui fa riferimento. È stata creata dal sito IndieAndred e aveva fatto lo stesso anche con le misure relative al pene degli abitanti delle diverse zone del mondo, servendosi di target map. Tra i paesi che si sono giudicati i posti della categoria top abbiamo la Finlandia, la Norvegia, la Russia e la Svezia, le cui abitanti hanno una taglia di reggiseno con una coppa più larga della D, che corrisponde a 12,5 cm. La coppa A di 5 cm è però la taglia media più diffusa, presente infatti in ben 92 paesi, ma l'Italia si posiziona tra le nazioni con più abitanti che portano una coppa C, corrispondente a 10 cm. La Cina è uno dei paesi che invece ospita le donne dal seno meno prosperoso, assieme al sultanato dell'Oman, al Mali e al Sudan.